Arrivano i giovani, arrivano le nuove generazioni e Generazione Next di Assovini Sicilia vuole proprio rappresentare i produttori under 40, già operativi in azienda e membri delle aziende parte di Assovini Sicilia, una grande squadra da cui stiamo prendendo esempio. Ora i giovani hanno preso consapevolezza del proprio ruolo, hanno preso consapevolezza di quello che effettivamente possono fare, vogliamo metterci in gioco, siamo dei giovani under 40 già attivi nelle nostre aziende e vogliamo veramente apportare quella ventata di freschezza non dimenticando sicuramente l'esperienza dei nostri padri. Come prima cosa sicuramente il nostro volere è stato quello di riunirci tutti insieme, la parola chiave sicuramente sarà squadra, camminare mano nella mano per portare avanti la Sicilia enoica e iniziare a dare maggiore valore al brand Sicilia. Sta cambiando anche il modo di coltivare la vita in Sicilia, come ben sapete il caldo ci insegue, quindi nuove tecniche agricole, giovani al lavoro nelle cantine, giovani enologi, quindi probabilmente è tutto un treno di cultura giovanile, passione giovanile che ci porterà lontano.